Gli studenti di 12 istituti di indirizzo agrario della Toscana scendono in campo per salvare dal rischio di estinzione le razze autoctone e varietà agricole locali, in tutto più di 800. Rispondendo ad un bando pubblico promosso dalla regione, le 12 scuole si sono impegnate a organizzare iniziative pubbliche in occasione della giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, in programma per lunedì 20 maggio. Per preparare gli eventi, gli studenti si sono documentati a lungo e hanno realizzato ricerche sul campo e video. Sicuramente il convegno del 20 che segna un po' la fine di questo percorso sarà un evento puntuale, ma il tema della biodiversità e le problematiche legate anche alla tutela della biodiversità sono parte integrante del percorso curricolare dei nostri ragazzi. Quindi lunedì 20 centinaia e centinaia di ragazzi saranno impegnati nello studio della biodiversità del proprio territorio e nella valorizzazione dei propri prodotti. Presenteranno i loro lavori presso le loro scuole e avranno anche la possibilità di utilizzare web, siti, internet e quant'altro. Gli istituti che hanno risposto al bando della regione si trovano sull'isola d'Elba, a Massa Carrara, a Prato, a D'Arezzo, a Pieve Santo Stefano, a Grosseto, a Ponte d'Era, a Pisa, a Cecina, a Pescia e a Firenze.